Aganciata a tutti, non c'era mai all'altezza a te, non c'è nessun lavoro non c'è nessuno, non c'è nessuno e ci presenta qualcosa in mezzo bene, è questo invece, non lo sapete è tutto il fatto è tutto il fatto io, questo è tutto il fatto ma se non lo sapete io, questa cosa chi ci sapete con me perché come dico quello che i tuoi sono vede a fare con me e a parte E' appunto, e' questa è la gestione Sai che cosa? Lo chiamano Cristiano E c'e' fuo un cambiamento di ricetta di Borsiani E' il nostro primo quello E' tutto, e' tutto E' tutto E' tutto E lo faccio vedere E' il nostro altro E' il nostro E' un po' E' un po' O' E' un po' I tussi I tussi Grazie a tutti